Sindaco, prima di parlare di buoni spesa, le chiedo qual è la situazione a Cartoceto in vista anche di questa diminuzione a livello regionale dei contagi? La situazione sostanzialmente a Cartoceto resta abbastanza stabile. È una situazione che ad oggi vede ancora 55 persone all'interno del Comune di Cartoceto interessate da questa emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19. Attualmente 20 sono purtroppo risultati positivi, molti di essi si trovano in ospedale, pochissimi si trovano invece all'interno della propria abitazione e dall'inizio di tutta questa emergenza purtroppo Cartoceto ha registrato 4 deceduti. Attualmente 20 sono purtroppo risultati positivi, molti di essi si trovano in ospedale, pochissimi si trovano invece all'interno della propria abitazione e dall'inizio di tutta questa emergenza purtroppo Cartoceto ha registrato 4 deceduti. Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, qui ci stiamo sull'argomento buoni spesa, chi può fare la richiesta e in che modo? Allora, intanto bisogna dire che Cartoceto ha ricevuto 55 mila Euro, abbiamo suddiviso questo fondo in tre quote sostanzialmente. Quello più importante è dedicato proprio all'utilizzo per l'erogazione di voucher di buoni spesa da parte del Comune di Cartoceto, possono fare richiesta a quei cittadini di nuclei familiari che presentano al 31 di marzo un saldo cumulativo attivo disponibile di tutti i conti correnti bancari o postali non superiore a 5 mila Euro e condizioni sine qua non, e il nucleo familiare deve trovarsi in una di queste due condizioni, o essere un nucleo sostanzialmente senza nessun reddito e senza percepire nessun sostegno pubblico, oppure il nucleo familiare può sostanzialmente percepire un sostegno pubblico, oppure alla luce dell'ultimo decreto Cura Italia, quello che tutti conosciamo ormai come decreto Cura Italia, ha semplicemente ancora inoltrato la richiesta di sostegno pubblico. Queste sono le categorie che possono accedervi. Abbiamo fatto una scelta tra l'altro di erogazione di voucher digitali, elettronici, proprio per una miglior fruizione, per accelerare i tempi degli istruttori anche da parte degli uffici e quindi rispondere più velocemente alle istanze dei cittadini, che mettessero anche nelle migliori condizioni gli esercenti poi di poter rendicontare quello che effettivamente i cittadini hanno speso presso le attività commerciali locali. Sono buoni elettronici di validità quindicinale e i cittadini per poter inoltrare richiesta al comune è sufficiente che si registrino e compilino il forum sulla piattaforma Buoni Spese, Poi ci sono le altre due misure che abbiamo attivato con quelli che sono i fondi residuali rispetto al totale che Cartoceto ha ricevuto. La prima è legata ad un intervento molto importante dedicato a nuclei familiari già conosciuti ai servizi sociali o che la rete territoriale di solidarietà vorrà evidenziare al settore servizi sociali per la preparazione di pasti giornalieri. Quindi utilizziamo questi fondi sostanzialmente per comprare derrate o altri beni necessari per la preparazione di pasti che poi saranno consegnati dalla protezione civile o delle associazioni di volontariato. L'ultima invece misura adottata è finalizzata agli interventi diretti da parte del settore servizi sociali in collaborazione con le realtà del terzo settore del nostro territorio proprio per far fronte ad eventuali altre esigenze primarie e essenziali che alcuni nuclei in disagio socio-economico dovessero presentare.